Dopo gli ultimi casi di contagio, in particolare il diffondersi anche in Abruzzo della variante Omicron, chiediamo al professor Stuppia di sfatare in un certo senso quelle che sono le paure che dilagano ormai tra la popolazione che non fa parte del comitato scientifico. Sfatiamo anche questa Vox Populi secondo la quale le trombosi sarebbero direttamente dipendenti dai vaccini. No, allora assolutamente. I vaccini hanno un numero di effetti collaterali, in particolare questi vaccini che stiamo usando adesso, bassissimi e il rischio di trombosi era associato esclusivamente a una certa categoria di persone con un certo tipo di vaccino. Ma comunque sia, il numero di casi avversi a qualsiasi tipo di vaccinazione è infinitamente minore al numero di morti da Covid. Quindi parliamo da un lato di reazioni avverse che possono essere anche la febbre o un po' di malessere. Dall'altro parliamo di centinaia di migliaia di morti in questo paese. Se noi dovessimo paragonarle dovremmo aspettarci che avendo vaccinato l'86% della popolazione io dovrei avere 500.000 morti da vaccino. Ma non ci sono neanche lontanamente. Quindi non c'è proprio paragone tra il rischio di infettarsi e il rischio di vaccinarsi. Per essere più chiaro, i casi in cui si sono riscontrate delle trombosi in persone decedute con il Covid, non per il Covid, ma con il Covid, cosa sta a significare? Mentre nel Covid, nei casi gravi, la famosa tempesta citochinica che provoca anche trombosi è un evento che ci si può aspettare, nei vaccini sono delle reazioni avverse rarissime che potremmo paragonare all'ipotesi che io andando in macchina ho un incidente stradale, ma non per questo non prendo la macchina tutti i giorni. Mi può capitare, ma non è che io esco di casa con la certezza di avere un rischio enorme, di avere un incidente stradale. Può capitare tutto qua. I casi morti di Covid sono migliaia di volte superiori ai casi di complicanze da vaccino in maniera più assoluta.